Il classico arco d'acqua ha tenuto a battesimo i due nuovi moderni elicotteri neoarrivati in dotazione alla flotta del reparto volo dei Vigile Fuoco in Sicilia. I due elicotteri provenienti dagli stabilimenti di costruzione Leonardo innalzeranno gli standard qualitativi delle operazioni a cui i Vigile Fuoco vengono costantemente chiamati ad operare, ad accogliere i due velivoli al loro arrivo all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, sono stati non soltanto i pompieri del reparto volo e del distaccamento aeroportuale, ma anche molte autorità civili e militari. Continua così, si sottolinea in una nota, in maniera sempre più produttiva, la collaborazione ormai consolidata negli anni tra la ditta Leonardo e il Corpo Nazionale dei Vigile Fuoco.